Barbara Carfagni, in un mondo in costante mutazione, cosa significa oggi riflettere sul cambiamento? Mai come oggi serve una riflessione sul cambiamento per una semplice ragione che, grazie alla tecnologia, al digitale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, noi siamo passati da un momento in cui, e un lungo periodo in cui abbiamo studiato il mondo, cioè lo abbiamo osservato, abbiamo cercato di capirlo, ha la possibilità di trasformarlo. E anzi, il processo di trasformazione è già cominciato, quindi è diventata una necessità partecipare a questa trasformazione che altrimenti viene gestito soltanto da chi possiede i dati, gli algoritmi e sa gestirlo. Quindi è un'esigenza profonda di tutti gli ecosistemi politici, economici, finanziari, umani e di tutti noi singoli cambiare, riuscire a cambiare e riuscire non solo ad adattarsi ad una realtà ma anche a configurarla.